Sono Davide Fornac, responsabile dei camp dell'Academy International di Juventus Soccer Schools. 12 leoni sul campo, tre meno un quarto, domenica aspetto loro, so che non deluderanno. Quest'anno l'effetto stadion, voglia di riscatto e via, il fischio del direttore di gara, primi tocchi è già magia. Super GG number one, portiere più forte della storia, non si segna, non si passa, ne dovina la traiettoria. Davanti poi c'è la roccia, non filtra neanche una goccia, moccia, scrivi questa storia d'amore che adesso sboccia. Giorgione super col take, l'inscivolata, Bonnie in ripartenza, no palla sprecata, no palla sporcata. Stefano e Paolino, Martin Kassler e si vede, c'è la spinta e cattiveria e si riparte, palla al piede. E dai, puoi c'è Pirlo, nemmeno a dirlo, per noi è Mozart, guarda che roba. Suggerimenti filtranti col contagiri, sempre libero a seguirlo, vi vengono i capogiri. Sei la sola che mi fa cantare, sei la sola che mi fa sognare. L'emozione che si può toccare, ogni gola è speciale, siamo qui a festeggiare e dire Juve campione d'Italia Si torna in campo, la squadra vuole i tre punti, centro campo da manuale, prendi un foglio e prendi appunti. Marcelo, Luca, Marrone, poi Giacca, il Gero, Simone, non cambia quando hai lo stesso sangue in corpo del campione. Vidal è il re Artù del pallone recuperato, quanta grinta e quanta spinta, quante gambe e quanto fiato. Poi conosco un principino, stessa forza, sempre quella, tiene un otto sulla schiena, tiene un otto anche in pacella. Con il numero 18, età beta, quagliarella, colpo sotto, colpo secco, sotto al sette o palombella. Borriello che apre gli spazi, Mirko e Matri vanno in porta, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Alex Del Piero, pure se tu te ne vai, resti impresso nella storia, le leggende non muoiono mai. Scudi sono 30, non discutere ho finito, per noi altri terza stella, per voi altri terzo dito. Sei la sola che mi fa cantare, sei la sola che mi fa sognare, l'emozione che si può toccare, ogni gole speciale siamo qui a festeggiare e dire Juve è campione d'Italia, giù le mani da Conte, giù le mani da, giù le mani da Conte, giù le mani da là. Juve è campione d'Italia, Juve è campione d'Italia, Juve è campione d'Italia, Juve è campione d'Italia. La Juventus torna ad essere campione d'Italia, è finita a Trieste, manca poco, pochissimo a San Siro, ma l'Inter è pesantemente avanti per 4 giù. Il ripeto è venuto qui, è già scattata la festa, deve ancora arrivare il fischio finale da parte di Rizzoli. Orsato ha decretato la fine, guardate, è cominciata la festa degli Juventini, abbiamo visto Antonio Conte dire su agli stare calmo, ma non ci riusciva da bordo campo. La Juventus torna, campione d'Italia, uno scudetto assolutamente meritato, sarà una lunga notte di festeggiamenti. Buongiorno a tutti, è un grande piacere essere qua per Juventus e per Juventus Soccer School, siamo a Seren. Volevo ringraziare oltre che al nostro partner Filippo Savona, che comunque ci ha dato la possibilità, oltre che avere un gran numero di ragazzi, questa settimana siamo a 92 iscritti, dai più piccolini di 5 anni fino ad arrivare ai più grandi di 16 anni. Oltre a lui, volevo anche, a nome di tutta Juventus Soccer School e Juventus, ringraziare anche la società locale, che Seren, che ha dato la possibilità di avere a disposizione tre campi, più lo stadio principale dove verrà effettuata la cerimonia di chiusura. Al momento ci sono su questo campo, questo campo sintetico 11, tra allenatori Juventus Soccer School, un allenatore di loro e anche un allenatore delle squadre selezionate direttamente da V9, lavorerà con il gruppo dei più piccoli. Nell'altro campo poi abbiamo la possibilità, e ringrazio anche per questo, altri tre tecnici locali, che seguiranno un programma studiato dal centro studi Juventus Soccer School e andranno a proporre degli allenamenti più basati sulla tecnica. Per il giallo, un, gli altri non servono, un ballon per il blanco e un ballon per il blu. Tiro, tiro veloce, 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 e la passo al compagno, e va. Corte, tiro veloce, veloce, competicione, e ? No, 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 il ballon, ici, non, ici, ici, ok ? Via ! Tiro, tiro, veloce, 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 veloce. Le ballon, le ballon, veloce, 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 veloce. la settimana sarà caratterizzata da diversi allenamenti ovvero due allenamenti al giorno un allenamento al mattino di un'ora e mezza e un allenamento al pomeriggio sempre di un'ora e mezza durante la settimana gli allenatori Juventus andranno a presentare i ragazzi quindi allenarli in base a tutti gli obiettivi calcistici quindi tutti gli obiettivi tecnici passando poi alla tattica individuale per i più grandi anche alcuni concetti di tattica di squadra e la settimana verrà chiusa con una cerimonia di chiusura direttamente nello stadio principale del Seren piccoli spostamenti laterali piccoli spostamenti laterali ok bravo piccoli spostamenti laterali ok guarda avanti guarda avanti guarda avanti è in vantaggio la sua tranera è in vantaggio palore fermo palore fermo bravo exterior dei piedi gauche exterior gauche con beat con beat andiamo 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 pronti pronti ora via dai 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 passano, si buona, toccato, toccato 8 a 7 9 a 7 Calusson, Calusson Tutti i programmi utilizzati e attuati da Juventus, da Juventus Soccer School sono stati creati e testati dal centro studi Juventus ovvero è un insieme di professionisti che hanno la possibilità di lavorare quotidianamente con tutti i nostri tecnici, formarli e creare quelli che sono i curriculum e tutta la programmazione di lavoro naturalmente non sto parlando soltanto di allenatori, di preparatori, atletici ma di tutta una serie di professionisti quali psicologi, medici, esperti in cell protection che hanno la possibilità di mettere insieme le loro competenze per dare a tutti gli allenatori responsabili nei diversi camp che abbiamo in Italia e nel mondo dare la massima professionalità possibile che poi viene utilizzata in campo viene espressa in campo e permette a tutti i bambini di vivere un'esperienza unica Juventus! 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 Per quanto riguarda la possibilità di vivere Juventus ancora più in concreto naturalmente per alcuni dei giocatori partecipanti a questo camp di Serenghe e negli altri successivi e precedenti camp verrà data la possibilità ad alcuni di loro di vivere un'esperienza Juventus unica ovvero di venire a Torino allenarsi nei nostri impianti e se vi sarà la possibilità all'interno del Juventus Training Center essere allenati anche lì dai allenatori Juventus e la possibilità di giocare partite amichevoli contro squadre del nostro settore giovanile quindi questa è un'esperienza in più per alcuni ragazzi che verranno che sono allenati attualmente dai nostri allenatori e che per alcuni di loro quindi verrà data questa possibilità in più in base a come giocheranno come si divertiranno e soprattutto come si comporteranno durante la settimana Amor Alessandro Varrent Thibault come si dice? Thibault Thibault, scusa Da Silva Jonathan Ciao Giovanna, come stai? Thibault Lupo Calvin Stai bene, tutto bene? Lupo Calvin Turco Thibault Vatello Stai a tebbi? No Per quanto riguarda le settimane di camp che Juventus che verranno organizzate qui in territorio belga potete naturalmente fare riferimento al sito locale quindi al partner locale che è gssbelgium.be e juventussoccerschool.com nella sezione gioca all'estero Io vi ringrazio per l'attenzione e un ringraziamento anche speciale a Reporter TV e anche se si Buongiorno